Perché avete presentato questa interrogazione? Perché lanciamo un appello al prefetto di Como e al sindaco di Como affinché scartino immediatamente l'ipotesi di realizzare sul territorio comasco, in qualunque luogo del territorio comasco, una tendopoli. Como ha già dato, in questo momento in provincia di Como si dà vitto, alloggio, hotel a quattro stelle a circa 700 clandestini in tutta la provincia, a 300 clandestini solo nella città di Como. È inaccettabile, ci sono cittadini comaschi in difficoltà che vivono sotto i ponti. L'ipotesi di trasformare Como in un grande centro d'accoglienza, in una grande tendopoli, di fronte magari al carcere di Como, è una scelta scellerata e disumana. La Lega dice fermatevi per il bene e per la dignità di Como, la Lega è pronta nuovamente a scendere in piazza per dire no a una tendopoli, no alla trasformazione di Como in un grande campo, in un grande centro d'accoglienza, prima vengono i cittadini comaschi.